Ciao a tutti siamo Nicola Natali e Giancarlo Ferrero della Pallacanesto Varese, abbiamo un messaggio per voi ragazzi. Volevamo dirvi che nessuno è mai diventato un grande facendo sembrare piccolo qualcun altro. E quindi mi raccomando se siete a conoscenza di qualche episodio di bullismo oppure siete presenti a questo tipo di episodio ditelo subito, parlatene con il professore, la maestra o parlatene a casa con la famiglia perché bisogna assolutamente fermare questa tendenza. Quindi no al bullismo. No al bullismo. No al bullismo.